I suoni dell'Apocalisse spiegati dalla scienza, a cosa sono dovuti. Ecco, questo articolo fa riferimento a quest'anno i suoni emessi dalla Terra sei anni fa, nei mesi del 2011, e poi si sono sentiti anche quest'anno, a giugno, in ogni parte del mondo. Ecco, questo per dire che cosa? Per dire, o far osservare un particolare, che poi verrà spiegato dagli esperti qua nell'articolo, inerente al motivo di questi suoni, dicendo appunto che essi sono dovuti a un'improvvisa e potentissima esplosione del Sole, le cui energie sono penetrate nella Terra in abbondanza, e arrivando al centro della Terra, la stessa li ha scaricate, emettendo questi strani suoni, che ho definito la voce anche della Terra. Ma il particolare più importante, che qua non si evidenzia, e potrebbe essere simile a quello che ci hanno nascosto nel famoso miracolo di Fatima, fatto dalla Madonna, cosiddetto il miracolo del Sole. Sì, perché in quel miracolo hanno detto tutto, o almeno hanno risultato tutto di quello che successe, tranne un particolare più importante, che nel miracolo del Sole, fatto dalla Madonna, si vedeva il Sole cadere sulla Terra e distruggerla, se non fosse stato fermato. Per cui, come si dice, le mezze verità, quel miracolo, fatto dalla Madonna cento anni fa, era un modo per dimostrare agli uomini, alle 70.000 persone, a Corsa e a Fatima, come sarebbe stata distrutta la Terra alla fine dei tempi. Ecco perché mi riferivo alle mezze verità, anche qua, ho spiegazioni che danno gli scienziati, gli esperti, perché dicono che improvvise e potentissime esplosioni del Sole, che poi sono andate avanti ancora per il 2012-2013, hanno fatto, hanno riempito la Terra di energia, ma sembra che possano aver taciuto la cosa più importante, che se allora il Sole emettesse o avesse esplosioni altrettanto forti e continue, potrebbe riempire la Terra della sua energia a tal punto da farla implodere o esplodere in mille pezzi. E non è che, anche in questo caso, come si dice, sperano che tutto vada bene per cui abbiano nascosto una verità così elementare. Così faccio in mente da comprendere, perché, in effetti, loro stessi scrivono qua nell'articolo che è la quantità enorme di energia del Sole entrate nella Terra, la Terra, non trattenendola, non riuscendo a sfogarla a quei famosi terremoti, di cui ultimamente, soltanto nel mese di luglio-agosto, 30 giorni, sono stati più di 400 che hanno superato il sesto grado della Scala Mercalli, come ho pubblicato in un video. Ecco, e se per caso usassero lo stesso sistema che hanno usato cento anni fa, come ho detto prima, per il segreto di Fatima, nascondendoci la parte più importante, che la Madonna evidenziò agli uomini, fece vedere agli uomini la fine dei tempi o della Terra? Punto interrogativo. Come si dice, la verità non la dicono completamente nella speranza che non succeda quello che, secondo la logica, potrebbe succedere in ogni momento, l'esplosione della Terra derivata dall'energia del Sole che la riempie a tal punto da farla esplodere. E questo è uno degli articoli che hanno pubblicato le suone delle trombe dell'Apocalisse nel 2017, giugno, il 7 giugno 2017. Ecco perché stamattina evidenziamo nel video dell'asseroide che passava sulla Terra ai 7 km di distanza, cioè il 7 che continua a girare in questo 2017. Le trombe dell'Apocalisse anche nel 2017. E se fosse, come ho detto, ho spiegato poco fa, secondo la logica, loro ci nascondono realmente la situazione catastrofica o pericolosa che stiamo vivendo per via delle intense esplosioni del Sole. Come sempre, bisogna solo spettare per vedere e se non ci saremo più, non servirà più di a niente.